ma ragazzi sto video guarda mi devo tenere mi devo tenere la porta per farlo mi devo sto morendo se il ritmo cado aspetta mi devo ripenere aspetta allora facciamo così situazione si alla intenditori di situazioni sentimentale non buon pomeriggio tampare palermo sentiamo un tifoso belga così ho sentito ha incontrato lucazzo in belgio sentiamo la fare vedere la bella come è così se il tifoso vale la juve sentite così risponde lucago pensi che vale la juve se si 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 se filmi con la juve non devi mai forza juve no no mai mai si 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 non credo la fai si fa una se si si vale la juve non si si sta buonè sta buonè sta buonè sta buonè sta buonè sta buonè ci vince un murales il campione del sarai il tuo il nuovo pelle dell'inno a te no mamma mia ragazzi guarda una cosa del genere uno youtube come me dovrebbe minimo un milione di iscritti mamma mia ragazzi questi sono ragazzi questi sono come i rapporti sessuali sto go de goto go sbora sbora mi dicevo da un mio collega veneziano così c'è ma sbombare palermo sbora 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 ragazzi a te spero che l'affare non si farà mai ma meno ma speriamo ma non per di aiutami tu allora ragazzi arrivo un poveriggio comunque sapete che lo cazzo ormai ragazzi è mio tutto che c'è ripeto che c'è allegri così fissa per codici scala sempre io così fissa per ricardi così fissa per elcano così fissa per avvis così fissa di tutto ma alla fine lo cazzo è mio mio mente per il mondo del web era toppo prega toppo prega grandissimo toppo prega tu non capisci niente non vorrei installare windows un pade palermo sempre coerente così coerentissimo comunque lo cazzo non si farà mai ma co te vuoi ma co te vuoi nessuno ti vuole non ha capito nessuno ti vuole capite bambini bambini piccolino lo cazzo quello va non vogliamo i pagliacci dell'inter via tutti i pagliacci sono pagliaccioni 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 però veramente l'interista ci ha ristato male ma male 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 come quando pensai c'è ma ci ha ristato male perché quello pensava gli interisti a quando venivano tutti a scrivermi da sotto a lucazza segnate è troppo pre non capisci niente ma tutti falliti fallino spariti i lucazzetti boys come da ma sapete falli ma accetta il fallimento capito comunque situazione sentimentale di lucazzo è passato da da mio mai mai alla juve mai 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 adesso adesso che sto ma copio dice mai 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 adesso capito comunque da un mai ad un capito io sta cosa mi preoccupo sempre ora capito chissà fosse lucazzo fu vera fu notizia vera chissà fatta però poi dice no non si farà mai non vorrei che sono c'è da nonno un nonno mai ad un appoggi dici si vado alla juvent ma io guarda veramente io non ho visto i pagliacci ma come a quello come giocatore mai mai ma io ti posso dire ovvi ripeto ho visto tanti pagliacci giocatori ma come a quello guarda mamma mia c'è tutto io penso che perché in barri palermo non è che ha detto soltanto che un bidone come giocatore ho detto anche proprio come popo carà come persone un pagliaccio un bastardo un bello a quello l'offese tutti ma no bravo ragazzo ma che sta dicendo ma posso capire il pallone ma tu offendi anche il gioco ma quella così comunque detto questo un minuto anche per allegri perché allegri poi non ero pagliaccione ragazzi perché ripeto una scuola posso capire abbiamo argomento vediamo se riesco in pochi minuti a fare voglio mettere due pagliacci in un conto perché non è che perché l'inter ora vogliamo la mia squadra c'è anche allegri ho visto vi tutto hanno visto la che giocava con vlaule c'era gatti come faceva la sfida la vita invece di fare allenamenti serie che fa quello o al proprio scalzo il raggio d'anga rientrare capito ora io dico no ma fatti furbo no ripeto a me mi sa su cazzo ma ci sono quelli che veramente l'aspettano al barco c'è gente che non chi se lo vedono veramente lo picchiano ma ragazzi veramente mica uno che non porta i copp e prende 9 milioni all'anno ragazzi e fa stasano uno può dire già bevrà in barca affida allenamento stanno liso sempre ragazzi si devo divertirsi ma qui visto che loro si rievo professionisti quelli sono minchia ragazzi ma perché non vanno la a mare sa ma sa perché non sa ma sono una sab perché non fa allenamenti seri questi ecco perché ce l'ha messo perché va male capito è troppo c'è troppo rilassamento non va bene se io non ho mai visto comunque ne ho spalletti né un conte né un angelotti né un capello non ho mai visto una roba del genere una roba del genere visto mai c'è troppo rilassamento la poi si fanno i fai foto a gente canna piscina na suite capito no ragazzi troppo rilassamento non va bene e poi c'è che c'è nel fobicchi che applausi invece di facci battere un calcio d'angolo facci vedere come si stoppa la palla come fa di te insegnaci sti cosa tu raga no veramente ragazzi ripeto potete dire quello che volete ciò ben male ci dai rilassamento ma ripeto ma fatti fubbo prendi 9 milioni all'anno non senza gioco senza schemi ti diverti pure cioè poi gente dice io che lo stadio e ma fallo buonamente questo pagliaccio e che ci devo dire e poi c'ha ragione ma almeno fatele a porte chiuse che nessuno vi vede amici vabbè perché ragazzi alla fine amici e parenti avete in mista allenato tutti che si fanno bene sono capito poi vabbè i giornalai la spogliatoio spaccato a metà si chi li sa di vento chi li prendono miliardi 9 miliuna 7 miliuna ma che se ne fu vedi poco battuto miliuna l'anno scorso ci fu fatto lo basket l'anno scorso quando cinque sei anni fa hanno hanno vedere lui di bala a giocare a basket stavolta ai cacci d'angolo cosa dobbiamo dire ma cosa dobbiamo dire la vita quindi poi ripeto quelli che sono male di alcuni di allegri che vogliono la testa e poi c'è del ragione a loro è ma molto ragione a me mi sono un cazzo per lo dico tanto la fine io ho fatto pochi video allegri perché cioè se io voglio essere intenditore devo andare a vedere tipo come un lucazio con bitone capito se chi ci vuole dire allegri è un bitone di illuminare un bitone allegri non è mai stato nella tua nome fortunato lui dei cigli e rugani questi sono soldi rubati che giocano nella mia windows una giocatore una società che a una volta era seria ma adesso vero ha diventato mezza palliaccia ma mezza proprio ma ripeto ma no perché ripeto perché giustamente questo questo allegri non fa allenamento serio che fa vedere queste cose ripeto posso capire che uno vince a scudetto tipo tipo che ha la spalletti o si mene fa bene io vince a scudetto anche noi c'è tutto vince a scudetto vabbè vince a scudetto ma si divertisce vabbè noi siamo rilassati a scudetto andiamo a questa per due anni con un botta niente pure in più favoristi questi sono per me ragazzi come si dice per me sono da credinari sono schifoserie sono schifoserie ragazzi sono schifoserie la verità è questa veramente io vedendo sti video pure ora mi faccio un sanguamaro perché ripeto quando gli facevano i scudetti anche andando in finale cembre che sono introiti ripetiamo che anche non vince la coppa ma alla fine andando in finale vabbè abbiamo perso il bacione di ammarito con due squadroni dice vabbè alla fine ragazzi ci abbiamo tentato quindi interisti sul contenitore come se stessi figurate con il bacione di ammarito allora a questo punto si è metto a paragone e noi abbiamo perso abbiamo perso con due colossi o lì ne ha perso una squadra normale forte ma non è che era una squadra galattica però loro non applaudirci grazie ragazzi grazie di tutto minchia noi ho la settimana di persa che ha visto a dire allora tutti grazie ragazzi io sono incazzato invece modi di pensare diciamo tra noi e quelli là come sempre ripeto lo cazzo è allegri per me due pagliaccioni due pagliaccioni veramente vi saluto ragazzi ai prossimi video comunque lo cazzo stra stra vittoria del web stra vittoria sul caccio stra vittoria e iscrivete al mio canale a me lo cadavete e parli di caccio vero capito ma caccio caccio pulito caccio vero ti ho dimostrato in tanti anni che ho vinto sullo cazzo e non vuoi dire più niente che adesso basta lucazzi boys si è rotto si è spacciato tutto e io sto godendo sto godendo e io se mi correndo se viene caiova a parte che lo credo che lo sembri per me quello è un buffone ciao